Dopo gli interventi di ristrutturazione degli anni passati, Palazzo Silva sarà valorizzato e obiettivo per il 2019 la realizzazione al suo interno anche di una mostra, complementare a quella che sarà allestita a Palazzo San Francesco. La Giunta Domese ha approvato una delibera con una serie di indirizzi in questo senso. L'assessore alla cultura Daniele Folino spiega che i risultati molto positivi raccolti dalla mostra dedicata a De Chirico e De Pisis ci spingono a continuare, ad investire e crescere. E se nulla l'assessore anticipa rispetto all'evento 2019 a Palazzo San Francesco, limitandosi a sottolineare che si manterrà o verrà aumentato il livello della proposta, lo stesso illustra il lavoro in corso con l'Associazione Musei d'Ossola e Fondazione Rominelli per il rilancio di Palazzo Silva. Si vuole avviare un percorso di riqualificazione del museo che passi dalla creazione di un percorso storico interpretativo coerente dei suoi allestimenti interni e arrivi ad un conseguente riordino delle collezioni. Già nel 2018 il Palazzo ha avuto giornate di apertura che il prossimo anno saranno ampliate e, come detto, si lavora per allestirvi un'esposizione. Dopo il buon lavoro fatto sarà coinvolta maggiormente la persona che si è occupata dello stesso, Stefano De Zotti, cui saranno affidate anche ricerche ad hoc. Per Palazzo Silva resta il limite della mancanza di un impianto di riscaldamento, sul quale occorrerà ragionare in futuro, afferma Folino. Per il breve periodo la sua fruizione dovrà essere limitata alla primavera-estate. Si sta lavorando anche per garantire la prosecuzione della collaborazione con il conservatore Collezioni Musei Civici, Antonio D'Amico, che ha curato l'importante mostra su De Chirico e De Pisis, cui saranno affidati i due eventi, in considerazione delle sue conoscenze e competenze che hanno portato, si legge nella delibera, al felice e positivo raggiungimento degli obiettivi prefissati con l'evento di quest'anno a Palazzo San Francesco.